ciao a tutti benvenuti anche oggi nel mio canale oggi proviamo a fare una torta deliziosa e vi dico subito gli ingredienti per la base allora ci serviranno 4 uova 70 grammi di farina setacciata 125 grammi di zucchero a velo sempre setacciato un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale la prima cosa che adesso andrò a fare vado a dividere il bianco dal rosso delle uova adesso io andrò a montare il bianco dell'uovo con un pizzico di sale mentre il rosso con lo zucchero a velo se volete potete anche aggiungere del colorante alimentare questo è facoltativo adesso non ci resta che incorporare gli albumi nei tuorli e poi aggiungeremo la farina setacciata e il lievito ho messo in metà dell'impasto del rosa e nell'altra metà ho messo un po di azzurro e appena finisco di mescolare vado a metterle in una carta da forno una volta messo nella teglia andiamo a infornare per 20 minuti a 180 gradi ci vediamo dopo monto la panna con tre cucchiai di zucchero a velo aromatizzato alla vaniglia ho tagliato il pan di spagna in quattro parti uguali e adesso inizio ad assemblare la torta bagnate il pan di spagna e farcite con una crema che più piace a voi io metterò crema pasticcera ho messo dentro una sacca a poche andrò a riempire il mio pan di spagna e così via adesso bagnerò di nuovo il pan di spagna crema e di nuovo pan di spagna e così via fino a che ho finito tutti i dischi dei miei pan di spagna non ci resta che decorare con la panna e questo è il risultato finale della torta spero che vi sia piaciuto e dati tutto e di più è tutto e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao